Il sindaco di Andrea Giovanna Bruno, in attesa della proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale, ieri ha sentito le forze politiche per un primo giro d'orizzonte a cui faranno seguito una serie di incontri bilaterali allo scopo di raggiungere un accordo soddisfacente per tutti su Giunta e Presidenza del Consiglio. Ciò che il sindaco auspica in questo momento di particolare difficoltà dovuto al riaccutizzarsi dei casi di Covid-19 su cui la Bruno ieri ha voluto fare il punto della situazione di Andrea e che tutto si svolga in un clima in cui prevalga la serenità necessaria a dare un primo forte segnale di discontinuità rispetto alle continue fibrillazioni che hanno caratterizzato la precedente amministrazione. In tal senso Giovanna Bruno sottolinea come non ci sia nessuno schema precostituito, sia pur rivendicando a seconda determinazione qualunque decisione finale. Tutto quindi è ancora in divenire, a cominciare dalla Presidenza del Consiglio. La si vorrebbe affidare al primo degli eletti della lista futura Cesareo Troia, ma i tre consiglieri potrebbero optare per l'indicazione di un assessore esterno come Vincenzo Caldarone, già sindaco di Andrea, che in molti considerano una riesumazione ma che garantirebbe l'esperienza e la capacità tecnica necessaria in un comune accorto di dirigenti con un segretario comunale tutto da decifrare e con l'impossibilità per il sindaco a causa della situazione di predisesto di dotarsi di uno staff a cominciare da un city manager. Per la Presidenza ha alzato la mano Giovanni Vurchio, segretario del PD e primo degli eletti, uno che sta sempre con il braccio alzato. Il problema per lui e per gli altri è che per il Presidente a tavolino può essere decisa un'indicazione, ma poi si devono trovare i voti in Consiglio Comunale, il che non gioca troppo a favore dell'onnivoro Vurchio, a cui verrebbe comunque riconosciuto uno degli assessorati da attribuire al Partito Democratico. Lui però non intenderebbe farlo in prima persona non fidandosi forse a giusta ragione. Nel PD l'intenzione sarebbe comunque quella di nominare assessori almeno due dei consiglieri, in muro da far subentrare le due donne prima e seconda dei non eletti. Di entrare in giunta come assessore all'ambiente verrà chiesto anche all'Avvocato Michele Di Lorenzo, storico ambientalista già assessore al ramo con l'amministrazione Caldarone, ma l'interessato potrebbe essere indicato anche come capogruppo, essendo oltretutto tra i pochi che avrebbe la capacità di intervenire in Consiglio Comunale senza la necessità del traduttore. Un altro assessore del PD potrebbe essere indicato dal consigliere Sangue Dolce, che proporrebbe Angelo Frisardi, assicurando così una rappresentanza nell'esecutivo anche al centro-destra. Riguardo le altre due liste che compongono la maggioranza, il sindaco insiste con il notaio Sabino Zinni a che entri in giunta con la carica di vice sindaco, mentre per Andrea Benecomune farà parte sicuramente della giunta Daniela Di Bari, forse con la delega alla cultura, sempre che sulla stessa non ci sia convergenza per la presidenza del Consiglio Comunale. Per Andrea Tre si attenderebbe la disponibilità di Angela Ribatti, si fa il nome di Ciccio Bruno e non si esclude Marianna Sinisi prima degli eletti della lista. Infine, per la delega al bilancio, vista la difficile situazione finanziaria, il sindaco sembrerebbe optare per un tecnico. Sullo sfondo di questo scenario, alla luce delle sempre più insistenti indicazioni nazionali, anche ad Andrea sarebbe in corso un dialogo con il Movimento 5 Stelle, un dialogo delicato, i cui sbocchi sarebbero tutti da discutere.